Costruire nuovi orizzonti di futuro per garantire uno sviluppo sempre maggiore ai territori del mezzogiorno, un tema di cui si è discusso alla stazione marittima di Napoli, nel corso del 36esimo convegno dei giovani imprenditori. Un appuntamento centrale nell'agenda politico-economica e che ha visto la partecipazione anche di una rappresentanza di imprenditori salernitani under 40, tra questi anche Marco Gambardella, presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno, che ha rimarcato l'importanza del momento e delle possibilità di sviluppo che potranno esserci grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, un'occasione importante anche per la provincia di Salerno, che grazie ai fondi stanziati dall'Europa dovrà riuscire a cambiare marcia nel completamento delle infrastrutture. Due giorni importanti e due giorni di confronto con i giovani. Dopo la pandemia oggi è il primo giorno di rivederci in presenza, è un momento del 36esimo convegno di Napoli per Capri, è un momento soprattutto di affrontare i temi. Il PNRR è un'occasione per tutto il paese, soprattutto per il mezzogiorno, anzi è un momento di confronto con tutta l'Italia, per l'Italia e verso l'Europa. È un momento che ci tenevamo e sicuramente anche grazie alla politica che ci sta ascoltando ultimamente, è un momento che le cose le possiamo fare perché fatte da noi, soprattutto nel mezzogiorno, sicuramente hanno un'occasione in più di successo.